Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninet1 in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninet1. Con Uninet1 l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi ovunque tu sia. Per saperne di più www.uninet1university.net. Uninet1. Nel futuro. Da sempre.